e buonasera bentornati bentornati a un nuovo video oggi a unboxing mi è arrivata una pipa che ho pagato un sacco di soldi guardate come me l'hanno imballata bene per paura di non romperla ora andiamo ad aprire andiamo ad aprire posiamo il pluriball oh porca miseria guardate che bello shape ragazzi ma guardate che bello shape vado a spacchettarla spacchettarla guardate ragazzi guardate che rim che rifinitura guardate c'è pure il timbro l'ho comprata usata vedete già bruciacchiata ma guardate che bel cannello di pino di pino di franco insomma di qualcuno era e guardate che bello shape guardate 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 che be dettagli ma l'attacco dei due cilindri è fantastico è fantastico cannello capiente non tantissimo ma capiente ma la cosa che più mi stupisce è questo ragazzi guardate che bel bocchino in plasticaccia guardate 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 che bella rifinitura che bel colore da sirena del camion dell'anas che fanno la manutenzione sull'autostrada guardate infiliamolo dentro giriamo giriamo ok no ma guardate che bello ragazzi guardate che linee ma metto pure così ve la faccio vedere guardate che linee spettacolare e niente ragazzi con questo è tutto vi lascio e ci vediamo alla prossima no ragazzi è spettacolare ora la fumo e vi dico com'è un abbraccio ciao ragazzi ciao 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 ciao